Irvine sì, Irvine no, Irvine forse. Sarà questo il tormentone che ci terrà compagnia ancora per i prossimi tre gran premi, fino a quando cioè scadrà l'opzione che la Ferrari ha nei confronti del pilota irlandese per l'anno prossimo e che può esercitare entro il 31 luglio. Per cercare di capirne di più abbiamo raccolto una serie di pareri tra piloti, giornalisti e persone vicine alla Ferrari. A tutti abbiamo chiesto la stessa cosa, chi ci sarà al fianco di Schumacher nel 98? Bella questa domanda. Secondo me sarà ancora Irvine. Mica salo penso quello che dicono. Vorrei che fosse un pilota un po' più veloce di questo, mi basterebbe solo così. Non ho dubbi, Irvine, perché Irvine va benissimo a Schumacher e siccome Maranello il 90% delle cose che decide lui rimane Irvine. Penso che sarà Irvine oppure spero che sia un pilota. Salo. Ah, ricomento a Pierno. Quello che mi piacerebbe vedere sono a Ferrari e a Villeneuve. A questo punto credo che sarà Irvine. Salo o non lo so. Oddio, non sono la persona adatta a chiedere una cosa del genere. Salo. E quell'altro della McLaren? Eh, io penso che possa essere mica Salo. Io vorrei Fisichella, io personalmente. Mi auguro non Irvine perché non se ne può più, veramente è una tragedia. Conferma noi di Irvine. Villeneuve. Non ne ho proprio un'idea, è vero. Sarà un pilota gradito a Schumacher. Chi sarà il tuo compagno l'anno prossimo? Mi foto per favore. My new teammate here. Hi, my two B.